Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Forza viva nel bagno di casa perché non voleva prostituirsi, era il 1981. Palmina Martinelli aveva solo 14 anni. A distanza di 35 anni la procura di Bari riapre le indagini su una delle pagine più tristi della cronaca nera. Un caso irrisolto, o meglio risolto da varie sentenze, con due assoluzioni e una sentenza definitiva, fu suicidio. Ma che la morte di Palmina non fosse suicidio riuscì a dirlo lei stessa poco prima di morire, facendo il nome dei suoi aguzzini al pubblico ministero. Lo disse davanti ad un registratore e la sua voce registrata e risuonata nelle aule del processo. Un nuovo tassello nella vicenda processuale sul delitto di Palmina Martinelli era già stato posto nel 2012 dalla procura di Brindisi, che aveva avviato nuove indagini e tre anni dopo, nel 2015, aveva concluso che fosse ragionevole ritenere che la 14enne Brindisina, arsa viva nel 1981 a Fasano, fosse stata uccisa e non si fosse suicidata. Ora è la Corte di Cassazione a riaprire uno spiraglio, accogliendo una questione di competenza territoriale, sollevata da Stefano Chiriatti, avvocato che assiste Giacomina, sorella di Palmina. I giudici della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio il decreto di archiviazione del Tribunale di Brindisi e trasmesso gli atti ai PM di Bari, invitandoli a scavare. Secondo il vecchio codice penale, in vigore fino al 1989, la competenza veniva stabilita sulla base del luogo della morte, Bari, e non del posto in cui era stato compiuto il reato, Fasano. Palmina fu trovata avvolta dalle fiamme nella sua casa, morì 22 giorni dopo nel Policlinico di Bari. La riapertura del caso è stata decisa dalla Corte di Cassazione con sentenza del 30 marzo scorso, annullando l'ordinanza del GIP di Brindisi del 28 aprile 2015. Palmina Martinelli aveva solo 14 anni quando fu arsa viva perché rifiutò di prostituirsi. La ghiacciante vicenda, tornata alla ribalta delle cronache in questi giorni grazie ad una trasmissione RAI, avvenne a Fasano il 12 novembre del 1981. La giovane Palmina fu trovata esanima in casa sua, con il 70% del corpo distrutto dalle ustioni. Nonostante il trasporto presso il centro ai grandi ustionati del Policlinico di Bari, morì dopo 22 giorni di agonia, tre dei quali in coma. Gli inquirenti fin da subito addossarono le colpe dell'omicidio a due giovani di loco rotondo, Enrico Bernardi e il suo fratellastro Giovanni Costantino, ma la Cassazione archiviò il caso come suicidio. Palmina, agonizzante nel suo letto in ospedale, riuscì a rispondere alle domande del pubblico ministero di allora, Nicola Magrone, con l'aiuto del professor Fiore. La registrazione audio dell'epoca è stata trasmessa in tv mercoledì scorso. Sul nastro è chiaramente udibile il respiro della giovane Palmina, che con un fil di voce riesce a fare i nomi di Enrico e Giovanni, e rispondendo alla domanda cosa ti hanno fatto, replicherà alcol e fiammifero. La famiglia di Palmina e l'intera comunità di Fasano ancora chiedono giustizia per l'assurda morte della quattordicenne. A tal proposito, grazie ad una petizione popolare, il prossimo lunedì a Fasano verrà intitolato Largo Palmina Martinelli, vittima della violenza e del degrado sociale. Si dice che le sentenze si accettano, ma ci sono casi in cui le sentenze sono così enormemente ingiuste che la vergogna rimane indelebile, non importa quanto tempo è passato. Tutto quello che ci rimane di lei è questa foto. A 14 anni è poco più di una bambina. Palmina muore arsa viva il 2 dicembre 1981. Una morte atroce, ma ancora più inquietante fu quello che accadde dopo. Ma cominciamo dall'inizio. Questa vicenda si svolge a Fasano, un paese tra Bari e Brindisi. Siamo nella Puglia degli anni Ottanta, in una realtà di degrado, ignoranza e miseria. Palmina appartiene a una famiglia povera. La madre fa la domestica, il padre è disoccupato. Lei è la sesta di 11 figli. Ma la ragazza è una grande sognatrice, ed è convinta che per lei il futuro sarà migliore. Le piace studiare, imparerà una professione, pensa, e me ne andrò. Ma in quarta elementare è costretta a lasciare la scuola per badare ai fratelli più piccoli, e non solo. Chiedendo come mai non venisse più a scuola, lei venne fuori con questo discorso. Lei disse, perché sai, dice, quelli vogliono che faccio la vita. Dice, ma io non la farò mai, non farò mai quel mestiere. La frase fu proprio questa. Chi erano quelli? So che parlava di un cognato e di sua mamma, che volevano che lei si doveva prostituire. Perché alla sua età Palmina parla così? Perché vede quello che è successo alla sorella maggiore Franca, ragazza madre che si è fidanzata con Enrico Bernardi, e con senzienti i genitori, è andata insieme alla sua bambina a vivere con lui e la suocera a Locorotondo. Franca sperava di sistemarsi, e invece aveva trovato l'inferno. Mi hanno timbrata, come quando vendono gli animali che li timbrano. Enrico l'aveva marchiata a sangue con una lametta. Me l'hanno iniziato con l'ago, fino alla Rè, e poi vedeva che non mi stavo ferma e me l'ha finito con la lametta. E aveva perfino picchiato la bambina di pochi mesi per costringere la ragazza a prostituirsi. Mi cominciò a dire, vedi che questo è una casa appuntamento, e ti devi prostituire. Io gli ho detto, ma tu sei scema. Lui disse a me, devi scegliere o il corpo tuo o la vita di tua figlia. Ma io credevo, sembra che lui stava a scherzare. Allora ci disse il pugno alla bambina, e la bambina cominciò a buttare sangue. Io mi sono detto, questo non è cosa da scherzare, questo è... e mi sono prostituita. Franca era dunque finita a vivere in una chiesa sconsacrata trasformata in bordello, gestita dalla suocera Angela Lorè, maîtresse che avviava la prostituzione alle giovani donne che i figli irritivano. Così aveva fatto Enrico con Franca, e così si proponeva di fare il fratellasto di Enrico, Giovanni, con Palmina. Palmina è la preda ideale, giovane, bella, illibata, in attesa che arrivi il principe azzurro che la porterà via da quella vita grama. Giovanni Costantini, 19 anni, non fatica a farle innamorare compromesse di matrimonio, e quando lui parte per mestre e per il servizio militare, Palmina gli scrive lettere appassionate, sognando di andare a vivere con lui al nord. La ragazzina non sa che lei, in questa storia, è solo una preda, e che la rete le si sta stringendo intorno. A novembre dell'81, Palmina, che è anche molto religiosa, si prepara a fare la cresima. Il giorno 11, alle 14.30, esce per andare a catechismo, ma sulle scale della chiesa incontra Bruno, un coetaneo, che va dicendo in giro che la ragazza si è concessa a lui e ad altri. Palmina, ferita da queste vicerie, si difende con decisione. Mentre i due discutono, alle 15.30, Palmina viene raggiunta dal padre e dal cognato. I due uomini non le credono, la schiaffeggiano davanti a tutti, la fanno salire in macchina e la riportano a casa, intimandole di non uscire. Sono le 16, quando Palmina rimane a casa da sola. A questo punto, sappiamo che ha indossato l'abito buono e ha messo una collannina al collo. Cosa aveva intenzione di fare? Aspettava qualcuno? Dopo appena 25 minuti, Antonio, il fratello di Palmina, rientra a casa e subito sente odore di bruciato e deflebili lamenti provenienti dal bagno. Nel momento dell'aprire la porta, il fumo che ti esce, mi vedo Palmina ancora con le fiamme addosso. Palmina, ridotta a torcia umana, è nella doccia in cerca dell'acqua, ma quel giorno a Fasano l'acqua manca. A quel momento l'unica cosa che mi disse era quella che non ce la faceva più e poi quella che disse voleva morire, forse perché soffriva troppo e poi mi disse che era stato Gianni ed Enrico. Palmina dice anche al fratello che i due le hanno fatto scrivere una lettera che Antonio poi ritrova in cucina. Sono le 16.55 quando Antonio porta Palmina al pronto soccorso di Fasano. Io facevo il chirurgo e quel giorno ero di guardia giù al pronto soccorso per cui fui quello che prestò il primo soccorso a Palmina Martini. Aveva ustioni di secondo e terzo grado avanzato che ricoprivano più del 70% della superficie corporea. Una ragazza era perfettamente lucida in quel momento, raccontava quello che era successo, che diceva che le avevano dato fuoco, diceva anche dei nomi, probabilmente i nomi che mi ha detto di Giovanni ed Enrico. Un dato certo lo avevamo, le dichiarazioni di colei che aveva subito il reato, quindi per noi era un dato certo. Tant'è vero che poi hai scattato l'arresto nelle mediatezze. la sera del giorno successivo e abbiamo arrestati quattro persone su ordini di cattura. Vengono arrestati Giovanni Costantini, Enrico Bernardi e altri due ragazzi, poi rilasciati, che dichiarano di essere stati in loro compagnia quel giorno. Il 20 novembre il pubblico ministero Nicola Magrone incontra Palmina agonizzante nel reparto Grandi Ostioni di Bari. Il primo contatto tra me e Palmina fu tra me, non da solo ovviamente, con gli altri, fu spaventoso, perché non mi trovai di fronte ad una figura definibile come persona. era un tronchetto, era un annerito, il viso lo vedevo appena, gli occhi li vedevo appena, era una cosa terribile, era intubata. Il professor Fiore, sospendemmo, poi riprendemmo, ci disse che si sarebbe potuto estubare la bambina in modo che potesse dare lei proprio con la sua voce delle risposte. E così fu, nel senso che tolta il tubo che la aiutava a respirare, riuscimmo a fare quel verbale, che è quel testo che dice io ero nervosa per gli affari miei, suonano la porta, vado ad aprire. Entrano Giovanni e Enrico, chiudono la porta e mi fanno scrivere che mi ero litigata con mia cognata. Poi mi chiudono nel bagno, mi tappano gli occhi, mi mettono lo spirito e mi infiammano. Enrico si è portato mia sorella con lui. La madre fa la vita a Martina, mi voleva portare lì. Io non ci volevo andare. Mi ha detto tu morirai con le mie mani. Ho detto io, ammazzami, ma io con te non ci vengo. Ora mi hanno fatto questo sfregio. Se guarisco mi ammazzeranno. Vorrei soltanto morire nelle braccia di Cristo. Mi chiesi a chi la porto questo verbale? Chi ci crederà? Io stesso fra un mese dirò ma ha detto veramente queste cose? Torna indietro e dici io da qua non me ne vado se non ho la traccia della effettività della voce di Palmina che in effetti ha detto questo. Un'ora dopo aver trascritto quel verbale il pubblico ministero Magrone registra la voce di Palmina che accusa i suoi aggressori. quella terribile testimonianza che ancora oggi possiamo ascoltare. C'è un registratore adesso devi dire soltanto i nomi delle persone che ti hanno fatto male. Giovanni Enrico Vuoi dire per favore il cognome di queste persone? Uno Costantino l'altro non lo so queste persone cosa ti hanno fatto? Dillo piano piano è vero il 2 dicembre dopo 22 giorni di agonia Palmina Martinelli muore il suo funerale suscita un'andata di commozione in tutto il paese due anni dopo nel 1983 presso la corte di Assise di Bari viene celebrato il processo per omicidio pluriaggravato contro Giovanni Costantini ed Enrico Bernardi un processo pieno di colpi di scena il PM di Brindisi interrogò Costantini e costui oppose un alibi di ferro ero alla caserma di Mestre a fare il militare non saprei proprio dirlo per quale motivo in fin dei conti sia io che mio fratello non gli abbiamo fatto niente non gli abbiamo fatto nessun torto al palmino non riesco ancora tuttora a capire perché abbia fatto i nostri nomi ci fu in particolare un un comilitone di Costantini un tale Figus che dichiarò proprio di aver saputo prima il 10 che sarebbe andato a casa e affermò che la mattina del 12 all'alba verso le 5 e mezzo alle 6 lo vide rientrare e rimettersi al letto gli chiese addirittura ora torni dice sì ma dove sei stato a casa punto noi abbiamo dimostrato che non era contrariamente all'affermazione di Costantini a Mestre e non è una cosa di poco conto ma rimane al centro dell'attenzione di tutti i giudici non abbiamo chi ci dice chi ha visto che quel giorno a quell'ora in quella casa accadde quello che diceva mi permettevo di replicare abbiamo un test che l'ha visto a Fasano abbiamo un test che l'ha visto in casa di Palmina e Palmina chiedo che si senta questo nastro che ribadiva in un minuto un minuto e mezzo i punti essenziali si disse noi non possiamo sentire in aula la voce di Palmina perché questa avrebbe suggestionato i giudici popolari qui ci siamo tutti ma non c'è Palmina ci siamo tutti è un processo in contumacia la voce di Palmina deve entrare in aula perché non ci siamo tutti perché non ci siamo tutti in contumacia mi dispiace non voglio suggestionare credendo che Palmina entri nell'aula alla fine la testimonianza di Palmina fu ammessa in aula devi dire soltanto i nomi delle persone che ti hanno fatto male Giovanni e Enrico queste persone cosa ti hanno fatto la registrazione fu messa agli atti eppure quella testimonianza resa in punto di morte non fu sufficiente a dimostrare che Giovanni ed Enrico avevano commesso quel delitto mi permisi di dire che se si fosse trattata dalla figlia di un giudice i giudici le avrebbero creduto il 22 dicembre 1983 la corte d'assise di Bari emette la sentenza di primo grado letto l'articolo 479 del codice di procedure penali assolve Bernardi Enrico e Costantini Giovanni del reazio per insufficienza di prove Giovanni Costantini ed Enrico Bernardi vengono solo condannati a 5 anni per sfruttamento e induzione alla prostituzione mentre sono assolti per insufficienza di prove per l'omicidio di Palmina che quindi secondo la corte si sarebbe suicidata Magrone ricorre in appello fornendo alla giuria i risultati di un esperimento che dimostra come in base alle ustioni riportate da Palmina era impossibile che la ragazza si fosse data a fuoco da sola il viso aveva quasi una sorta di mascherina di zona franca rispetto alle lesioni tutto il tocco capelli bruciati il naso tutto bruciato la parte superiore perché erano coperti dalle due mani specialmente la mano destra addirittura le sopracciglia non era possibile che la mano potesse aver percorso quel tratto tanto velocemente da precedere la fiammata e quindi proteggere significa che quando è stato dato fuoco le mani erano già sugli occhi a protezione perché ti erano reta conto di quello che stava accadendo e istintivamente si era protetta solo così ha potuto precedere perché se l'avesse fatto da sola non avrebbe potuto far precedere la mano rispetto alla fiammata nell'87 il processo si riapre il tribunale 8 marzo un gruppo di donne avvocato prende a cuore il caso di Palmina e si costituisce parte civile c'era questo fatto veramente inquietante per il quale la ragazza aveva lasciato un biglietto un biglietto che è stato interpretato come un proposito di suicidio invece era un biglietto noi del tribunale 8 marzo l'abbiamo letto come un biglietto di protesta mamma tu mi capisci io lo scrupolo non me lo mantengo papà mi chiude Cesare mi stroppia tu chi sei che fai io vi dico una cosa mi sono stufata addio per sempre noi l'abbiamo interpretata come un me ne vado però la lettera porta addio per sempre e noi abbiamo ritenuto che le parole e sempre fossero state aggiunte dai dalle persone che l'avevano aggredita e abbiamo richiesto una perizia grafica che ha confermato la provenienza di queste lettere dalla grafia di uno degli imputati quindi questa secondo noi era la firma dell'assassino quindi secondo la difesa Palmina stanca di come veniva trattata in famiglia si sarebbe suicidata lasciando una lettera di commiato alla madre che si conclude con addio per sempre secondo l'accusa invece quella lettera si conclude con addio di puntato come era solita firmarsi Palmina e le lettere er sempre sarebbero state aggiunte dopo dagli aggressori a dispetto di tanti sforzi ancora una volta prevare la tesi della difesa il 27 ottobre 1987 la sentenza di assoluzione viene confermata in appello l'anno dopo in Cassazione i due imputati sono addirittura assolti con formula piena perché dall'insufficienza di prove si passa all'insossistenza dei fatti dunque Palmina si sarebbe incendiata da sola e avrebbe calugnato Costantini e Bernardi in punto di morte Palmina è la vittima Palmina è quella che è morta tra le fiamme quindi ed è stata destinata ad una tumulazione come si fa per le streghe oltre ai numerosi elementi portati dall'accusa che non sono serviti a convincere la giuria ce n'è un altro che in quell'aula non è mai entrato e che forse se lo avesse fatto avrebbe potuto cambiare le sorti di quel processo è una testimonianza che noi di chi l'ha visto dopo tanti anni abbiamo trovato Maria è un'ex compagna di scuola di Palmina che quando seppe quello che era accaduto alla sua amica ne rimase talmente sconvolta che il padre la portò con sé in Germania dove è rimasta per vent'anni ebbene Maria l'11 novembre dell'81 aveva appuntamento con Palmina le due ragazzine dovevano scappare insieme dovevamo dire che era il suo compleanno che io ero stata invitata a casa sua per il suo compleanno e poi scappare dovevamo scappare io perché volevo scappare dall'istituto e lei perché voleva scappare da casa sua quindi lei aveva pianificato che il giorno della disgrazia sarebbe dovuta andare via di casa l'idea era la sua di scappare però a me piaceva pure perché anche io volevo scappare dall'istituto quindi Palmina quel giorno voleva scappare e certo non suicidarsi ma se chi aveva progettato di avviarla alla prostituzione avesse scoperto questo avrebbe senz'altro cercato di impedirglielo sarebbe andato a prenderla prima della fuga e a quel punto Palmina si sarebbe opposta con tutte le sue forze a quel destino e avrebbe provocato l'ira dei suoi rapitori firmando così la sua condanna a morte Palmina prima di morire dice chiaramente i nomi di chi le ha dato fuoco per tre volte la corte di un tribunale non le crede e quindi secondo il nostro sistema giudiziario Bernardi e Costantini dopo l'assoluzione definitiva non possono più essere accusati di questo delitto perché di delitto si tratta che almeno si riconosca questo Palmina non si è uccisa Palmina è stata uccisa Palmina è stata uccisa Palmina è stata uccisa di un tribunale